buongiorno a tutti video rapidissimo perché voglio farvi vedere questa spazzola autorescaldante che mi ha inviato un negozio cinese sapete che io collaboro spesso con questi negozietti e mi ha dato la possibilità di scegliere dei prodotti io ho scelto tra tanti prodotti anche questa perché l'ho vista girare sul web e ho detto proviamola vediamo se funziona questi sono i miei capelli vedete super elettrizzati dal phon perché io li asciugo così non ho la pazienza di fare spazzola e phon ma in realtà questa spazzola nasce per i capelli proprio crespi quindi più tendenti al mosso allora un consiglio che vi do prima di tutto è di spazzolarli comunque con una spazzola io uso questa qui la conoscete e perché ha i pettini più sottili vedete dopo averla spazzolata a modi proprio spazzola perché c'ha i denti più doppi quindi se non sono ben spazzolati può un po tirarli e la passate così come se fosse una spazzola vera e propria io ovviamente l'ho accesa e è arrivata a 220 gradi come potete vedere cioè l'effetto è strabiliante ovviamente ma doveva insistere un po in più dietro però in realtà toglie proprio quell'effetto elettrico e posso dirvi che io l'ho provata anche su mia madre che c'ha appunto i capelli crespi mossi che non hanno mai una piega e addirittura comunque se si fa così appunto da un po' volume appunto al capello insomma da proprio la piega è una svolta cioè è un video proprio rapido proprio perché è fantastica cioè mi sono trovata benissimo la sto utilizzando ormai da una ventina di giorni scusate la faccia sono proprio struccata sono appena uscita dalla doccia e niente adesso hanno bussato stanno per vedere i miei nipoti quindi blocco immediatamente il video a se che baia vi metto giù nell'info box tutti i link e ci vediamo al prossimo video ciao ciao